Buonasera e ben ritrovati. Buonasera. Questo è come al solito il concerto che conclude il nostro ciclo, questo dedicato alla notte, alle serenate, a questa estate calda. Riprendiamo il nostro argomento con la stessa scansione cronologica, partiamo dal tramonto e finiamo con l'alba. Con una bella fresca mattinata. Per questo concerto abbiamo deciso, come nei podcast avete sentito, tanti autori importanti, Brahms, Schumann, Mahler. Per il concerto invece abbiamo deciso di dare più spazio e attenzione ad autori meno frequentati. Esatto, brani meno eseguiti. E quindi a noi sono piaciuti molto, ci hanno appassionato e speriamo che appassionino anche voi. Buon ascolto. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti.